oggi andiamo a fare un giro sul fiume sacro sul gange e vediamo un attimo se riusciamo a trovare i gatti con le cremazioni fronta 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 stamattina ci siamo alzati presto all'alba quasi all'alba e ora andiamo su gange a farci una gira in barca a vedere i gatti dal fiume per esplicarmi ho preso un risciò a 50 rupie questa città mi sta piacendo assai penso mi fermerò parecchi giorni così ne ho prefitto anche per farmi passare il raffreddore che mi è venuta che mi è venuta Abbiamo un intruso che viaggia a scrocco Questa è già scrocco Questa è scrocco Lasciando di ciò andiamo appena fino ai gate principali del centro Questa è scrocco Questa è scrocco Questa è scrocco Questa è scrocco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccomi qua, appena sceso mi viene fatto un terzo occhio, l'occhio della mente, il camion è un'offerta ovviamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Partita. Grazie a tutti. 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 Uomo e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Qui ci stanno le pile di legno. Per fare le cremazioni. qui ci stanno preparando un'altra. Ecco le pile di legno. Non so se si vedono al centro. Non so se c'è ancora la persona. Sì, vedo che l'ho già acceso il fuoco. qui ci stanno preparando un'altra parte. E' un'altra parte. Grazie a tutti. Durante la notte ci sono state cremazioni di massa. Tutta questa cedere deve essere della legna e delle cremazioni. Per fare le campagne nel nostro metro. Mi hacesse essere di vicino. Ci sono dei lieviti? Per fare le campagne. Questa è stata del genere. Puoi la terra di farlo. Questa è un'altra parte. Questa è stata del genere. Questa è una cosa. Passa, 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 ok Esce ancora fumo dalla cedera Beh, se li ho guadagnati questi 5 euro Vedete Non ho capito cosa sono questi qua Sembrano tutti Però vedo la gente che la compra, si è frutta Forse qualcosa da grattugiare Quello che grattugia Grazie a tutti 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 Un cadavere Una persona morta Una persona portata alla cremazione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti